Trovo che ci sia qualcosa di francamente mostruoso nella scelta di somministrare un inibitore ormonale a degli adolescenti per artificiosamente procrastinare la pubertà. C'è in questa volontà di mantenere la cultura dell'indistinto, di negare il maschile e il femminile, di evitare che nascano uomini e donne fertili, feconde, capaci di incontrarsi costruttiva e generativa, una mostruosa volontà di inibire e di annientare la vita nel nostro occidente e nella nostra storia. C'è la volontà assoluta di bloccare la nostra civiltà per sterilizzazione. E mentre per esempio si nega per un principio umanitario che un pedofilo possa essere inibito nelle sue perversioni con un ormone, questo stesso ormone viene somministrato a un bambino di 12, di 13, a una bambina di 14 anni per evitare che diventi donna. Quindi possa rimandare il momento della definizione del genere non alla natura, non all'istinto, ma a un'ipotetica intellettualità piena di orrendi condizionamenti. Mi sembra un segnale diabolico che vuole innanzitutto annientare noi attraverso l'inibizione della vita e l'inibizione dello sviluppo e della crescita. C'è qualcosa di diabolico in tutto questo, non vi ho avuto di dubbio.